Teniamo che il rapporto con l'università ha tanti livelli quello della ricerca. È un percorso che è nato dall'iniziativa di grandi aziende, non per questo io vengo da una grande azienda e insieme ad altre del territorio abbiamo capito che dovevamo dare un contributo, un contributo alle filiere, quindi chiaramente sono grandi aziende che usano filiere molto lunghe in Italia, particolarmente filiere costruite da piccole e medie realtà, eccellenze tecniche che devono intraprendere un percorso di managerializzazione per poter continuare a lavorare con attori, capi filiera di questo livello. Insieme all'università di Firenze è venuta un po' l'idea, quindi questa è la genesi del progetto, di mettere insieme chi ha l'esperienza dei mercati, chi ha l'esperienza delle gestioni aziendali complesse e chi ha le conoscenze accademiche per dare ai talenti, ai giovani talenti, delle piccole e medie imprese di filiera ma anche non di filiera, la possibilità di essere esposti a questo tipo di contaminazione. Il progetto oggi è al quarto anno, ha avuto un grande successo, quindi in questo momento è in espansione e lo vediamo secondo due punti di vista diversi, uno perché è cosa serve fare per l'industria e l'altro è perché è importante dare un contributo a tutto il sistema indipendentemente di questo possa generare un ritorno diretto nell'immediato oppure un ritorno indiretto nel lungo termine per tutto il sistema economico nazionale.